Nella top 10 delle professioni che nel 2014 presentano le maggiori difficoltà di reclutamento sono previste oltre 29.000 assunzioni, ma 8.500 rischiano di non essere coperte, e quanto emerge dall'elaborazione realizzata dall'ufficio studi della CGA. Rispetto al 2009 i lavoratori introvabili sono dimezzati, eppure analisti e progettisti di software, tecnici programmatori, ingegneri energetici meccanici, tecnici della sicurezza sul lavoro ed esperti in applicazioni informatiche sono le professioni dove la difficoltà di trovare personale è molto elevata. Le cause del disallineamento tra domanda e offerta di lavoro, segnala Giuseppe Bortolussi, segretario della CGA, sono molteplici. Nonostante il perdurare della crisi, molte aziende, spiega, continuano a denunciare che nei settori tecnologici ad alta specializzazione le competenze dei candidati sono insufficienti, tuttavia molte aziende scontano ancora adesso metodi di ricerca del personale del tutto inadeguati.